Diritto di Voto Linda, età anni 10, era l'unica in tutta la famiglia che sembrava contenta di essersi svegliata. Norman Miller la poteva sentire attraverso il suo coma malsano imposto gli dai sonniferi. Era riuscito ad addormentarsi finalmente un'ora prima, ma si era trattato più di stanchezza che di sonno vero e proprio. Papà, papà, svegliati, svegliati. Lui represse un gemito. Va bene, Linda. Ma papà, questa volta ci sono intorno più poliziotti del solito, ci sono macchine della polizia e tutto il resto. Norman Miller si rassegnò e si sollevò fiaccamente sui gomiti. Il giorno stava cominciando, fuori cominciava a spuntare l'alba, un germe di un grigio miserevole che somigliava molto al grigio che lui si sentiva dentro. Udì Sara, sua moglie, che si dava da fare in cucina per preparare la colazione. Suo suocero, Matthew, si stava raschiando rumorosamente la gola nel bagno. Senza dubbio l'agente Handley era già pronto e lo stava aspettando. Era il gran giorno, il giorno delle elezioni. Quell'anno era cominciato come tutti gli anni. Forse un po' peggio perché era l'anno delle elezioni, ma non era poi tanto peggio di tutti gli altri anni delle elezioni. I politicanti parlavano del grande corpo elettorale e dell'immensa intelligenza elettronica al suo servizio. La stampa analizzava la situazione per mezzo dei calcolatori industriali. I New York Times e il St. Louis Post-Dispatch avevano i loro calcolatori ed erano pieni di piccole allusioni a quello che stava per accadere. I commentatori televisivi e i giornalisti segnalavano gli stati e le contee che si trovavano in felice contraddizione con qualche altro. La prima sensazione che quell'anno non sarebbe stato simile agli altri si ebbe quando Sara Muller disse al marito, la sera del 4 ottobre, le elezioni si sarebbero ottenute esattamente un mese dopo, Kentwell Johnson dice che quest'anno lo Stato sarà l'Indiana. È il quarto. Pensa, questa volta sarà il nostro Stato. Matthew Ortenweiler levò la faccia carnosa dal giornale, fissò severamente la figlia e grugnì. Quegli individui sono pagati per dir bugie, non ascoltarli. L'hanno già detto in quattro, disse Sara, in tono blando. Dicono che sarà l'Indiana. L'Indiana è uno Stato chiave, Matthew, disse Norman in tono altrettanto blando. Sai, è per via dell'atto Hawkins Smith e di quella faccenda di Indianapolis. E... Matthew torse il viso in un'espressione allarmata. Nessuno parla di Bloomington o della contea di Monroe, vero? Beh, disse Norman. Linda, che seguiva la conversazione levando la faccina appuntita da uno all'altro degli interlocutori, intervenne piccolando. Tu voti quest'anno, papà? Norman le sorrise con dolcezza. Non credo, cara. Ma si era nel periodo della crescente eccitazione elettorale e Sara aveva vissuto una vita tranquilla, facendo grandi sogni per i suoi parenti. Così disse, in tono carico di desiderio. Ma non sarebbe meraviglioso? Se io votassi? Norman Miller aveva i baffetti biondi che gli avevano dato un aspetto attraente agli occhi di Sara, un tempo, ma che adesso erano troppo ingrigiti per conferirli un'aria distinta. La sua fronte era segnata da rughe di incertezza sempre più profonde e, in generale, non si era mai lusingato di essere nato per essere un grand'uomo o per diventarlo in particolari circostanze. Aveva una moglie, una figlia e un lavoro e, salvo qualche rara crisi di depressione, tendeva a credere di aver ottenuto già abbastanza dalla vita. Così si sentì un po' imbarazzato e discretamente a disagio, notando la direzione assunta dai pensieri di sua moglie. «In fin dei conti, mia cara, vi sono 200 milioni di persone in questo paese e, con simili probabilità, non credo che dovremmo sprecare il nostro tempo a pensarci sopra». «Ma Norman», obiettò Sara, «non si tratta proprio di 200 milioni e lo sai bene. In primo luogo sono elegibili soltanto le persone tra i vent'anni e i sessanta e sono sempre uomini, così questo riduce gli elegibili a 50 milioni. Poi, se si tratta davvero dell'Indiana? Ci sono sempre un milione e 250 probabilità contro una. Non vorrei che scommetta su una corsa di cavalli con queste probabilità, vero? Su, mangiamo adesso». «Sono tutte sciocchezze», brontolò Matthew dietro il giornale. «Tu voti quest'anno, papà?» chiese ancora Linda. Norman scosse il capo e si avviarono tutti insieme verso la sala da pranzo. A partire dal 20 ottobre l'agitazione di Sara crebbe rapidamente. Al caffè annunciò che la signora Schulz, la quale aveva una cugina che era segretaria di un delegato dell'Assemblea, diceva che tutti i furbi avevano scommesso l'Indiana e dice che il presidente Willers viene perfino a fare un discorso a Indianapolis. Norman Miller, che aveva avuto una giornata molto faticosa in negozio, accolse la notizia alzando appena le sopracciglia e non ci pensò più. Matthew Ortenweiler, che era sempre cronicamente insoddisfatto dell'operato di Washington, dichiarò «Se Willers fa un discorso nell'Indiana, questo significa che è convinto che Multivac sceglierà Arizona. Non avrebbe mai il coraggio di avvicinarsi di più quella testa buca». Sara, che ignorava suo padre tutte le volte che poteva, continuò «Non so proprio perché non annunciano lo Stato appena sono in grado di farlo. Poi dovrebbero annunciare la contea e così via, così la gente eliminata potrebbe distendersi i nervi». «Se agissero in questo modo», osservò Norman, «i politicanti seguirebbero gli annunci come tanti avvoltoi e quando la cerchia si fosse ristretta a una città ci troveremmo un deputato ad ogni angolo della strada, e magari anche due». Matthew strinse gli occhi e si passò la mano sui radi capelli grigi. «Sono avvolto in ogni caso. Senti». «Su, papà», mormorò Sara. Ma la voce di Matthew si levò alta sulla sua protesta. «Senti. Mi ricordo bene quando hanno piazzato Multivac. Sarebbe stata la fine delle politiche di parte, dicevano. Basta con lo spreco del denaro pubblico nelle campagne elettorali. Basta con le nullità montate dalle campagne pubblicitarie e portate al congresso e alla Casa Bianca. E adesso guardate quello che succede. La campagna elettorale è più vasta di prima. Soltanto che adesso la fanno alla cieca. Manderanno individui nell'Indiana per via dell'atto Hawkins-Smith e altri individui in California, nel caso che la posizione di Joe Hammer acceni a diventare determinante. «Secondo me dovrebbero finirla con queste pazzie. Bisogna tornare ai buoni vecchi metodi. Non vuoi che papà voti quest'anno, nonno?» chiese improvvisamente Linda. Matthew la guardò. «Non badarci tu!» e tornò a rivolgersi a Norman e a Sara. «C'è stato un tempo in cui ho votato. Sono andato diritto verso la cabina. Ho stretto i pugni sulle leve e ho votato. Ho detto, questo individuo mi piace e io voto per lui. Ecco come dovrebbero andare le cose». «Tu hai votato, nonno?» chiese eccitatissima Linda. «Hai proprio votato?» Sara si affrettò a intervenire per fermare ciò che minacciava di trasformarsi in una storia incredibile se fosse diventata di dominio pubblico fra i vicini. «Oh, non è niente, Linda. Il nonno non voleva dire di aver votato davvero. Tutti votano in quel modo e anche il nonno. Ma non era proprio votare, capisci?» Matthew rugì. «Non era un ragazzino allora. Avevo ventidue anni. Ho votato per Langley ed è stato un voto vero e proprio. Forse il mio voto non ha contato molto, ma valeva quanto quello di chiunque altro. Di chiunque altro. Non c'era nessun multivac che...» «È ora di andare a dormire, Linda», intervenne Norman, «e smettila con queste domande sul voto. Quando sarai grande capirai tutto da sola». Le diede un bacio e la bambina si allontanò, dopo una nuova esortazione materna e dopo aver ottenuto il permesso di guardare la televisione della sua camera fino alle nove e un quarto se si sbrigava a fare il bagno. «Nonno», disse Linda, restò ritta con la testa china e le mani dietro la schiena fino a che il giornale si abbassò, scoprendo le sopracciglia cespugliose e gli occhi affondati in un nido di rughe. Era venerdì 31 ottobre. «Sì», fece il nonno. Linda si avvicinò, appoggiò gli avambracci sulle ginocchia del vecchio che fu costretto a riporre il giornale. «Nonno, hai votato davvero quella volta?» «Hai sentito che l'ho detto, no?» ribatte lui. «Credi forse che racconti frottole?» «No, ma la mamma dice che allora votavano tutti. Sicuro che votavano tutti. Ma com'era possibile? Come potevano votare tutti?» Matthew la guardò con aria solenne, poi la sollevò e se la mise sulle ginocchia. Riuscì perfino ad addolcire il volume della voce. «Vedi, Linda, circa 40 anni fa tutti votavano. Per esempio, volevano stabilire chi doveva essere il nuovo presidente degli Stati Uniti. I democratici e i repubblicani indicavano i loro candidati e ogni cittadino poteva dire chi preferiva. Quando era passato il giorno delle elezioni, contavano quante persone volevano il democratico e quante volevano il repubblicano e chi aveva più voti era eletto. Capisci? Linda annuì. Ma come faceva la gente a sapere per chi doveva votare? Glielo diceva Multivac? Le sopracciglia di Matthew si abbassarono, dando a suo viso un'espressione severa. Votavano secondo il proprio giudizio, bambina mia. Lei si scostò un poco e il vecchio abbassò ancora la voce. «Non sono arrabbiato con te, Linda, ma vedi, qualche volta occorreva tutta la notte per contare i voti e la gente diventava impaziente. Così inventarono macchine speciali che potevano studiare i primi voti e confrontarli con i voti ottenuti negli stessi posti gli anni precedenti. In questo modo la macchina poteva calcolare com'era il voto di tutta la popolazione e chi era stato eletto. Capisci? Lei annuì. Come Multivac. I primi calcolatori erano molto più piccoli di Multivac, ma poi le macchine diventarono più grandi. Potevano dire com'erano andate le elezioni basandosi su un numero di voti sempre più piccolo. Poi, alla fine, costruirono Multivac, che può giudicare sulla base di un solo voto». Linda sorrise, ormai raggiunta alla parte della storia che le era già familiare. «È molto simpatico», disse. «No, non è simpatico», disse Matthew accigliandosi. «Non voglio che una macchina mi dica come avrei votato io soltanto perché un buffone di Milwaukee dice di essere contrario all'aumento delle tasse. Forse voglio votare in modo strambo, solo per il piacere di farlo. Forse voglio addirittura non votare. forse...» Ma Linda gli era scivolata dalle ginocchia e stava già battendo in ritirata. Proprio sulla porta incontrò sua madre. Indossava ancora il soprabito e non aveva avuto il tempo di togliersi il cappello. Disse senza fiato «Sono stata da Agatha». Matthew la guardò con aria critica. Degnò la notizia di un grugnito che fu l'unico commento, poi riprese il giornale. «E indovina cosa ha detto», cominciò Sara, slacciandosi il soprabito. Matthew lisciò le pagine del giornale e deciso a riprendere la lettura. «Non me ne importa niente», disse. «Ma papà», disse Sara, «non aveva il tempo di arrabbiarsi. Doveva raccontare le notizie e suo padre era l'unico ascoltatore disponibile e quindi continuò. Il marito di Agatha è poliziotto, lo sai, e dice che una quantità di agenti del servizio segreto sono arrivati questa notte a Bloomington. Non sono venuti per me. Ma non capisci. Agenti del servizio segreto, e siamo in tempo di elezioni, e sono venuti a Bloomington. Forse stanno cercando il rapinatore di una banca. Sono anni che non hanno rapinato una banca in città. Sei proprio incorregibile». E se ne andò. Neanche Norman Miller accolse la notizia con maggiore interesse. «Ma Sara, come fa giù a sapere che sono agenti del servizio segreto?», chiese con calma. «Non andranno certo in giro con la tessera incollata sulla fronte». Ma la sera dopo, era il primo novembre, Sara poteva annunciare trionfalmente. «Tutti qui a Bloomington prevedono che sarà uno di qui l'elettore. Lo dice anche il news, e lo dice anche la televisione». Norman si agitò, a disagio. Non poteva negarlo ormai, si sentiva stringere il cuore. Se Bloomington stava per essere davvero colpita dalla folgore di Multivac, questo avrebbe significato giornalisti, spettacoli televisivi, turisti, seccature e novità a non finire. A Norman piaceva l'andamento tranquillo della sua esistenza, e la politica, fino ad allora tanto lontana, si stava facendo sempre più vicina, purtroppo. «Tutte chiacchiere», disse, «nient'altro che chiacchiere. Aspetta e vedrai, allora. Aspetta e vedrai». Non vi fu molto da aspettare, comunque, perché il campanello squillò con insistenza, e quando Norman andò ad aprire, un uomo alto dalla faccia molto seria gli chiese «E lei, Norman Miller?» «Sì», disse Norman, con una strana voce morente. Non era difficile capire, dal portamento dello sconosciuto, che si trattava di un tipo abituato ad esercitare una notevole autorità, e la ragione della sua apparizione divenne inevitabilmente ovvia, almeno quando era apparsa assolutamente impossibile fino a un attimo prima. L'uomo presentò le sue credenziali, entrò in casa, si chiuse la porta alle spalle e pronunciò alla formula di rito. «Signor Miller, debbo informarla da parte del Presidente degli Stati Uniti che lei è stato scelto per rappresentare l'elettorato americano giovedì 4 novembre 2008». Norman Miller riuscì, con qualche difficoltà, ad arrivare fino alla poltrona senza l'aiuto di nessuno. Sedette, pallido e quasi insensibile, mentre Sara portava un po' d'acqua e gli mormorava fra i denti. «Non star male, Norman, non star male, o sceglieranno qualcun altro al tuo posto». «Mi scusi», disse Norman all'agente appena fu di nuovo in grado di parlare. L'agente del servizio segreto si era tolto il cappotto, si era sbottonato la giacca e si era seduto comodamente sul divano. «Tutto bene», disse. L'espressione ufficiale sembrava essere sparita dal suo volto dopo l'annuncio di rito. Adesso aveva l'aria di un grosso uomo cordiale. «È la sesta volta che porto questo annuncio e ho assistito a reazioni di ogni tipo, e nessuna che assomigliasse a quelle che si vedono sul video, capisce quello che intendo. Quell'atteggiamento devoto e consacrato, il personaggio che dice «Sarà un grande privilegio servire il mio paese», roba del genere, insomma, e l'agente rise perfettamente a suo agio». La risata di Sara gli fece eco, aveva una nota acuta da isterica. «Ora dovrò rimanere con lei per qualche tempo», continuò l'agente. «Mi chiamo Phil Endley e sarò lieto se mi chiamerà Phil». «Il signor Müller non potrà più lasciare la casa fino al giorno delle elezioni. Signora Müller, lei dovrà informare il magazzino che suo marito è ammalato. Lei potrà uscire ancora per qualche giorno, ma deve promettere di non lasciarsi sfuggire neanche una parola». «D'accordo, signora Müller?» «Sara a noi con forza». «D'accordo, non una parola». «Benissimo. Ma, signora Müller», Endley assunse un'aria grave, «badi che non stiamo scherzando. Esca soltanto se è necessario e in ogni caso lei sarà pedinata. Mi dispiace, ma dobbiamo agire in questo modo». «Pedinata?» «Nessuno se ne accorgerà, non si preoccupi, e poi mancano solo due giorni all'annuncio ufficiale alla nazione. Sua figlia è a letto adesso», fece Sara in fretta. «Bene. Dovremmo dirle che io sono un parente o un amico che è venuto a stare qui per qualche giorno. Se dovesse scoprire la verità dovrà rimanere in casa a sua volta, in quanto a suo padre farà bene a rimanere in casa comunque». «Questo non gli andrà a genio», disse Sara. «Non possiamo farci niente. Ora, dal momento che nessun altro vive con voi, mi pare che lei sappia proprio tutto sul nostro conto», mormorò Norman. «Abbastanza», ammise Handley. «Ad ogni modo queste sono le mie istruzioni per il momento. Cercherò di fare del mio meglio per ridurre al minimo il disturbo. Il governo rimborserà le spese per il mio mantenimento. Ogni notte verrò sostituito da qualcuno che rimarrà a sedere in questa stanza, così non ci sarà il problema di sistemarmi da qualche parte a dormire. Ora, signor Miller...» «Sì, signore?» «Mi chiami pure Phil», disse di nuovo la gente. «Lo scopo di questi due giorni preliminari è di abituarla alla sua condizione. Preferiamo che lei si presenti davanti a Multivac in condizioni di spirito il più possibile normali. Si rilassi e cerchi di sentirsi come in un giorno qualsiasi, d'accordo?» «D'accordo», fece Norman, ma poi scosse il capo, violentemente. «Ma non voglio una simile responsabilità. Perché proprio io?» «E va bene», disse Handley. «Cercherò di spiegarle». «Multivac soppesa miliardi e miliardi di fattori conosciuti. Ma c'è un fattore incognito, e che rimarrà incognito ancora per molto tempo. La reazione della mente umana. Tutti gli americani sono modellati, in un certo senso, dall'influenza di quello che fanno e dicono gli altri americani. Si può portare qualsiasi americano davanti a Multivac, perché Multivac osservi le sue inclinazioni, le sue tendenze. E da questa osservazione si può dedurre quali sono le inclinazioni e le tendenze di tutti gli altri cittadini. Qualche americano è più adatto degli altri a questo scopo, in certi periodi determinati, a seconda degli avvenimenti dell'annata. Multivac ha scelto lei, quest'anno, come il più rappresentativo. Non il più intelligente, o il più forte, o il più fortunato, ma il più rappresentativo. Non vorrà mettere in dubbio la competenza di Multivac, per caso». «Ma non potrebbe sbagliare», chiese Norman. «Non lo ascolti, signore», interruppe Sara, che aveva ascoltato con impazienza. «È innervosito, capisce? Ma in realtà è molto bene informato e si tiene sempre al corrente della politica». «È Multivac che ha deciso, signora Miller», disse Handley, «e ha scelto suo marito». «Ma Multivac sa proprio tutto», insistè cociuto Norman. «Non potrebbe aver sbagliato?» «Sì, è possibile». Tanto vale che io sia sincero. Nel 1993 un elettore designato morì di un colpo prima che gli venisse notificata la scelta. Multivac non l'aveva predetto. Non poteva farlo. Un elettore potrebbe essere mentalmente instabile, moralmente inadatto o addirittura sleale. Multivac non può sapere tutto di tutti, fino a che non ha assorbito tutti i dati possibili e immaginabili. Ecco perché si tengono sempre pronte alcune designazioni di riserva. Ma credo che questa volta non ve ne sarà bisogno. Lei è in buona salute, signor Miller, e ci siamo informati bene sul suo conto. Lei è l'uomo adatto». Norman si nascose il volto fra le mani e rimase immobile. «Domattina sarà perfettamente a posto», promise Sara. «Deve soltanto abituarsi, tutto qui». «Naturalmente», disse Handley. Nell'intimità della camera da letto, Sara Miller si espresse in un linguaggio diverso e molto più energico. Il motivo principale della sua predica era questo. «Norman, cerca di controllarti. Tu stai tentando di buttare via la grande occasione della tua vita». «Ho paura, Sara», morborò Norman disperato. «Questa faccenda mi fa paura». «Per l'amor di Dio, ma perché? Che altro hai da fare se non rispondere a un paio di domande?» «La responsabilità è troppo grande». «Che responsabilità? Multivac ti ha scelto. La responsabilità è di Multivac. Lo sanno tutti». Norman sedette sul letto in uno scatto di ribellione. «Tutti credono di saperlo, ma non lo sanno. Loro?» «Abbassa la voce», si bilò gelida Sara, «o ti sentiranno in tutta la città». «Non lo sanno», disse Norman abbassando la voce in un sussurro. «Quando parlano della presidenza di Rigeli, nel 1988, parlano forse delle sue promesse non mantenute e della sua politica razzista? No, parlano del maledetto voto Maccomber, come se Humphrey Maccomber fosse il responsabile di tutto solo per essersi presentato davanti a Multivac. Anch'io mi sono espresso così. Solo adesso capisco che quel povero diavolo era soltanto un contadino che non aveva chiesto affatto di essere scelto. Perché la colpa dovrebbe essere più sua che degli altri? Eppure adesso tutti maledicono il suo nome». «Non essere così puerile», disse Sara. «Sto diventando sensibile. E ti dico, Sara, che non accetterò. Non possono costringermi a votare se non voglio. Dirò che sono ammalato. Dirò che sono...» Ma Sara ne aveva avuto abbastanza. «E adesso ascolta me», mormorò in preda una gelida ira. «Non devi pensare soltanto a te stesso. Sai cosa significa essere il lettore dell'anno. Significa pubblicità e fama. È un mucchio di quattrini. E poi tornerò a essere un commesso qualunque. No! Potrei avere un incarico direttivo se avrai un po' di cervello. E lo avrai, perché ti dirò io quello che devi fare. Potrei controllare la pubblicità se giochi bene le tue carte. E potrai costringere la magazzini Kennela a farti un contratto stabile, con una clausola per gli aumenti di stipendio e per una pensione decente. Ma non è questo che conta quando si è elettori, Sara. Per te sarà questo che conterà. Se pensi di non dovere niente a te stesso o a me, e io non chiedo niente per me, pensa almeno a Linda». Norman gemette. «No, forse?» insiste Sara. «Sì, cara», mormorò Norman. Il 3 novembre fu dato l'annuncio ufficiale ed era ormai troppo tardi per ritirarsi, anche se Norman fosse riuscito a trovare il coraggio di tentare una cosa simile. La casa fu sigillata. Gli agenti del servizio segreto la circondarono, bloccando ogni tentativo di avvicinamento. In principio il telefono squillò ininterrottamente e Philip Henley rispose a tutte le chiamate con un sorriso di scusa. Alla fine il centralino smistò direttamente le comunicazioni alla centrale di polizia. Norman immaginò che in questo modo gli venivano risparmiate non solo le verbose e invidiose congratulazioni degli amici, ma anche le insistenti offerte dei commessi viaggiatori e l'insinuante gentilezza dei politicanti che cercavano lui da tutta la nazione. Forse persino le minacce di morte da parte degli inevitabili maniaci. Gli agenti proibirono perfino l'ingresso dei giornali nella casa per evitare le pressioni indirette e staccarono la televisione, gentilmente ma con fermezza, nonostante le proteste di Linda. Matthew brontolava e se ne stava chiuso in camera sua. Linda, dopo i primi momenti di eccitazione, si era avvilita per la proibizione di uscire di casa. Sara divideva il suo tempo tra la preparazione dei pasti e i progetti per il futuro e Norman si sentiva sempre più depresso. Venne finalmente la mattina di giovedì 4 novembre 2008, il giorno delle elezioni. La colazione era pronta già di buon'ora, ma soltanto Norman Miller riuscì a mangiare, meccanicamente. Nemmeno dopo essersi raso e aver fatto la doccia si sentì restituito alla realtà. Gli pareva di essere sudicio di fuori come si sentiva sudicio di dentro. La voce amichevole di Handley faceva il possibile per distendere una pervenza di normalità in quell'alba grigia e ostile. Le previsioni del tempo parlavano di una giornata coperta con possibilità di piogge prima di mezzogiorno. Terremo isolata questa casa fino a che signor Miller non sarà tornato, disse Handley, ma poi ci toglieremo tutti di torno. L'agente del servizio segreto era in divisa adesso e portava al fianco le armi regolamentari, nelle fondine dalle borchie d'ottone. Lei non ci ha dato nessun disturbo, signor Handley, fece Sara in tono affettato. Norman ingurgitò due tazze di caffè, si asciugò le labbra con il tovagliolo, si alzò e annunciò con uno scatto. Sono pronto. Anche Handley si alzò. Benissimo e grazie, signora Miller, della sua gentilissima ospitalità. Il caro armato passava ronzando per le strade deserte. Erano troppo deserte quelle strade, perfino per quell'ora del mattino. Provediamo sempre a dirottare il traffico dal percorso dell'elettore, spiegò Handley. Sa, da quando vi fu l'attentato che per poco non rovinò le elezioni Leverett nel 92. Quando il caro armato si fermò, Handley, gentilmente come sempre, aiutò Norman a uscirne e lo guidò in un tunnel sotterraneo, lungo le cui pareti erano allineati parecchi soldati sull'attenti. Lo condussero in una stanza molto illuminata, dove tre uomini in camice bianco lo accolsero sorridendo. Ma questo è l'ospedale, disse Norman. Non ha importanza, ribatte Handley. È proprio in un ospedale che vi sono tutti i servizi che occorrono. Bene, cosa devo fare? Handley annui. Uno dei tre uomini in camice bianco si fece avanti. Mi incarico io di tutto, agente, disse. Handley salutò familiarmente e uscì dalla stanza. Non vuole sedersi, signor Miller? Chiese l'uomo in camice bianco. Io sono John Paulson, calcolatore anziano, e questi signori sono Samson Levine e Peter Dorogobus, i miei assistenti. Norman astrinse le mani a tutti, stordito. Paulson era un uomo di media statura, con un volto che sembrava abituato a sorridere sempre e portava visibilmente la parrucca. Aveva occhiali antiquati, cerchiati di plastica. Accese una sigaretta mentre parlava e ne offrì anche a Norman, ma Norman rifiutò. In primo luogo, signor Miller, disse Paulson, lei deve sapere che non c'è fretta. Vogliamo rimanere con lei anche tutto il giorno, se necessario, in modo che lei si abitui all'ambiente che la circonda e superi qualsiasi dubbio se ne ha. Qui non c'è niente di insolito né di clinico, se comprende quello che voglio dire. Capisco, disse Norman, ma vorrei che tutto finisse in fretta. Comprendo il suo modo di pensare. Tuttavia vogliamo che lei sappia esattamente quello che avverrà. Tanto per cominciare, Multivac non è qui. No? In un certo senso, per quanto si sentisse depresso, Norman si era guardato intorno per cercare Multivac. Dicevano che era lungo mezzo miglio e alto come una casa a tre piani e che 50 tecnici si aggiravano continuamente nell'interno delle sue strutture. Era una delle meraviglie del mondo. Paulson sorrise. No, non si può trasportare, lo sa. È situato nel sottosuolo, infatti, e pochissime persone sanno esattamente dove si trova. E lei ne comprenderà facilmente il motivo, dato che si tratta della nostra più grande risorsa. Mi creda, non lo adoperiamo soltanto per le elezioni. Norman capì che l'altro voleva farlo chiacchierare per metterlo a suo agio, ma si sentì imbarazzato ugualmente. Credevo che lo avrei visto, mi sarebbe piaciuto, ne sono certo, ma occorrerebbe un ordine presidenziale che dovrebbe essere vistato dal Dipartimento della Sicurezza. Tuttavia, noi siamo in contatto con Multivac, per mezzo di un collegamento radio. Ciò che Multivac dice può essere interpretato anche qui, e ciò che noi diciamo viene trasmesso direttamente a Multivac, quindi, in un certo senso, siamo in sua presenza. Norman si guardò attorno. Le macchine che erano in quella stanza non significavano niente per lui. Adesso lasci che le spieghi, signor Miller, continuò Paulson. Multivac ha già la maggior parte delle informazioni necessarie per decidere le elezioni nazionali, statali e locali. Ora ha bisogno soltanto di controllare alcuni imponderabili atteggiamenti della mente umana, e lei è qui per questo. Non possiamo dirle quali domande le rivolgerà, ma queste domande possono non avere un grande significato, per lei o magari anche per noi. Può chiederle cosa ne pensa del servizio della nettezza urbana nella sua città, e se lei preferisce i bruciatori centralizzati. Potrebbe chiederle se lei ha un medico personale, o se si serve dell'ente nazionale della medicina. Mi capisce? Sì, signore. Qualsiasi cosa chieda, lei risponda con parole sue e nel modo che preferisce. Se pensa di doversi spiegare più ampiamente, lo faccia. Parli anche un'ora, se è necessario. Sì, signore. Un'altra cosa. Dovremmo fare uso di alcuni semplici congegni che registreranno automaticamente la pressione sanguigna, la conduttività della pelle e l'emanazione delle onde cerebrali mentre lei parla. Si tratta di un macchinario imponente, ma lei non sentirà assolutamente il minimo dolore, non si renderà nemmeno conto di quello che avverrà. Gli altri due tecnici erano già occupati con un apparecchio lucente, montato su rotelle bene oliate. Serve per controllare se mentirò o se dirò la verità? chiese Norman. No, signor Miller, non è una questione di menzogna o di verità. Si tratta soltanto di controllare l'intensità delle emozioni. Se la macchina chiede la sua opinione sulla scuola di sua figlia, lei può dire, mi sembra che sia sovraffollata. Queste sono soltanto parole, ma dal modo con cui reagiranno il suo cervello, il cuore, i suoi ormoni e le sue ghiandole sudorifere, Multivac potrà giudicare esattamente quanto sia intenso il suo pensiero al riguardo e potrà capire i suoi sentimenti meglio di quanto non possa farlo lei stesso. Non lo sapevo, mormorò Norman. Ne sono certo. La maggior parte dei particolari sul lavoro svolto da Multivac sono tenuti rigorosamente segreti. Per esempio, quando tutto sarà finito, lei dovrà firmare una dichiarazione in cui si impegna a non rivelare mai la natura delle domande che le sono state rivolte, la natura delle sue risposte, ciò che si è fatto e come è stato fatto. Meno si sa sul conto di Multivac, minore è la probabilità che vengano esercitate pressioni esterne sugli uomini che gli servono e sorrise senza allegria. La nostra vita è già abbastanza dura anche così. Norman a lui. Capisco. Ed ora vuole mangiare o bere qualcosa? No, grazie. Ha qualche domanda da rivolgermi? Norman scosse il capo. Ci dica quando è pronto. Sono pronto. Ne è certo? Certissimo. Paulson annui e fece un cenno agli altri. Spinsero avanti il loro spaventoso apparecchio e Norman Miller si accorse che il respiro gli veniva più affannoso adesso mentre lo guardava. La prova durò quasi tre ore, con una breve interruzione per bere un po' di caffè e una imbarazzante seduta con un vaso da notte. E durante tutto questo tempo Norman Miller rimase incastonato nell'apparecchio che gli aderiva addosso tanto da premergli le ossa. Pensò, ironicamente, che la sua promessa di non rivelare niente di ciò che era accaduto era molto facile da mantenere. Già adesso le domande erano una vaga confusione nella sua mente. In un certo senso aveva pensato che Multivac gli avrebbe parlato con una voce sepolcrale, superumana, risonante e decheggiante, ma dopo tutto si era trattato di un'idea ispiratagli dagli spettacoli televisivi. La realtà era così poco drammatica da essere perfino deludente. Le domande erano strisce di metallo coperte di punti. Una seconda macchina convertiva le domande in parole e Paulson leggeva le domande a Norman, poi gli passava i fogli con la traduzione in chiaro e lasciava che li leggesse da solo. Le risposte di Norman erano trascritte da un registratore, poi gli venivano sottoposte per una conferma. Le correzioni e le aggiunte venivano registrate con lo stesso sistema. Tutto questo veniva poi passato a una macchina che traduceva le risposte in simboli che venivano trasmessi a Multivac. L'unica domanda che Norman poteva ricordare sul momento era un pettegolezzo incongruo. Cosa ne pensa del prezzo delle uova? Adesso tutto era finito. Gli tolsero gli elettrodi da tutto il corpo, con molta delicatezza. Gli svolsero la fascia che gli stringeva il braccio. Portarono via la macchina. Lui si alzò, trasse un profondo respiro un po' tremulo e chiese. È tutto? Ho finito? Non ancora, Paulson gli si avvicinò, sorridendo in maniera rassicurante. Devo chiederle di rimanere qui ancora un'ora. Perché? Sì? Vuole sapere Norman. È il tempo che occorre a Multivac per intessere i nuovi dati ai miliardi di dati che sono già in suo possesso. Si tratta di migliaia di elezioni, lo sa. È un procedimento molto complicato. Può darsi che vi sia qualche contestazione, che la carica di economo di Phoenix, Arizona, o qualche seggione consiglio comunale di Wilkesboro, North Carolina, sia in dubbio. In questo caso Multivac può essere costretto a rivolgerle un paio di domande decisive. No, disse Norman, non me la sento di ricominciare. Probabilmente non sarà necessario, disse con calma Paulson. Capita molto di rado, ma lei deve rimanere. Una punta d'acciaio, appena appena, sembrò affiorare nella sua voce educata. Lei non ha scelta, lo sa, deve rimanere. Norman sedette. Si sentiva privo di forze. Non possiamo permetterle di leggere un giornale, disse Paulson. Ma se vuol leggere un giallo, o se vuole giocare a scacchi, o se c'è qualcosa che possiamo fare per aiutarla a passare il tempo, lo dica pure liberamente. Oh, non importa, aspetterò e basta. Lo accompagnarono in una stanzetta vicino a quella in cui era stato interrogato. Sprofondò in una poltrona ricoperta di plastica e chiuse gli occhi. Doveva aspettare che arrivasse il momento decisivo. Adesso si sentiva perfettamente sveglio. Lentamente la tensione lo lasciò. Il suo respiro si placava e ormai poteva stringere le mani senza che le dita gli tremassero violentamente. Forse non vi sarebbero state altre domande. Forse era tutto finito. E se tutto era finito davvero, la prima cosa che sarebbe accaduta, ora, sarebbe stata una fiaccolata e inviti a presenziare ad ogni sorta di funzioni. L'elettore dell'anno. Lui, Norman Miller, semplice commesso di un piccolo magazzino di Bloomington, indiana, che non era nato grande e non aveva raggiunto la grandezza, si sarebbe trovato nella straordinaria posizione di un uomo su cui si fondava la grandezza. Gli storici avrebbero parlato sobriamente delle elezioni Miller del 2008 perché avrebbero portato il suo nome, elezioni Miller. La pubblicità, un lavoro migliore, il fiume di denaro che interessava tanto a Sara, occupavano soltanto una parte della sua mente. Tutto questo sarebbe stato benvenuto, naturalmente, non poteva rifiutarlo, ma sul momento c'era qualcosa d'altro che cominciava ad interessarlo. Dentro di lui cominciava ad agitarsi un patriottismo latente. Dopotutto lui stava rappresentando l'intero elettorato. Era il punto focale per tutti. Per quel giorno lui riuniva nella sua persona tutti gli elettori d'America. La porta si aprì, ridestando automaticamente la sua attenzione. Per un attimo provò una contrazione allo stomaco. Non altre domande. Ma Paulson sorrideva. Tutto fatto, signor Miller. Nessun'altra domanda, signore? No, è tutto chiarissimo. Ora lei verrà accompagnato di nuovo a casa e d'ora innanzi lei sarà di nuovo un privato cittadino, o almeno lo sarà nella misura in cui glielo permetterà il pubblico. Grazie, grazie. Norman Arrossi poi continuò. Mi domando chi è stato eletto. Paulson scosse il capo. Bisognerà aspettare l'annuncio ufficiale. Le disposizioni sono molto rigide. Non possiamo dirlo nemmeno a lei. Spero che comprenderà. Oh sì, naturalmente. Norman si sentì imbarazzato. Il servizio segreto le darà i documenti da firmare. Sì. Improvvisamente Norman Miller si sentì orgoglioso. In questo mondo imperfetto, i cittadini sovrani della prima e più grande democrazia elettronica avevano, per mezzo di Norman Miller, per suo mezzo, esercitato ancora una volta il loro libero e inalienabile diritto di voto.